Otti con alta, tecnologia premium plasmata sulla vita. Per consentire alle persone di esprimere tutto il loro potenziale uditivo, è cruciale utilizzare le più avanzate tecnologie di elaborazione sonora e di personalizzazione. Inium è la nuova piattaforma di terza generazione, che in dimensioni microminiaturizzate e con consumi ultraridotti, amplia le possibilità di personalizzazione ed offre prestazioni acustiche eccellenti. Otti con alta incrementa il grado di comprensione della voce e della qualità sonora in ogni circostanza per raggiungere l'obiettivo di sentire 24 ore su 24 senza sforzo. Il nuovo SpeechGuard E preserva il naturale inviluppo vocale, così da produrre una voce più chiara e dettagliata rispetto alla compressione tradizionale. Lo Spatial Sound Premium ricrea l'udito binaurale, come la natura lo intende, permettendo la chiara percezione della provenienza dei suoni e ripristinando la consapevolezza spaziale dell'ambiente circostante. Free Focus introduce 5 nuove modalità direzionali che si adattano automaticamente alle mutevoli circostanze di ascolto dell'utente, agevolando la comprensione delle parole nel rumore. Il Feedback Shield è il nuovo, rivoluzionario sistema di prevenzione del feedback 5 volte più efficace che, anche nelle condizioni più avverse, è in grado di ottimizzare simultaneamente l'amplificazione, la qualità sonora e il comfort. Ognuno percepisce i suoni in modo unico ed esclusivo. Attraverso U-Matic, la nuova funzione di Gini, l'audioprotesista personalizza Alta rendendolo su misura ed unico. Alta è disponibile in una famiglia completa di modelli, dalla Micro CIC alla BTE Power, per esaudire ogni esigenza. I nuovi ricevitori ergonomici coniugano estetica ed alta fedeltà e sono disponibili per perdite uditive lievi, moderate e severe. Il design raffinato di Alta e le sue dimensioni ridotte rimuovono completamente lo stigma. Per le persone, l'importanza di utilizzare i moderni strumenti tecnologici cresce di giorno in giorno. La nuova ConnectLine è la soluzione che offre le più ampie opportunità di connettività attraverso un unico sistema integrato. Oticon Alta, reso unico dall'audioprotesista, plasmato sulla vita degli utenti di oggi. Oticon. People first.